Ben trovati dal Tg della Mobilità, in corso in centro la manifestazione di Cobas partita nel primo pomeriggio da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza Venezia. Sono deviate le linee di bus a passaggio del corteo, tutti gli aggiornamenti su romamobilità.it. Intanto per lavori sullo scambio tranviario tra Viale Trastevere e Via Induno sino a questa sera le linee 3 e 8 viaggeranno con busta a vetta sostitutivi lungo tutto il percorso Valle Giulia, stazione Trastevere, Casaletto, Piazza Venezia.